Ho iniziato nelle giovani lì del Cesena fino all'anno del fallimento e poi sono stato in Serie D sotto età con il Sant'Arcangelo e poi ho fatto due anni a materica l'anno di D con la vittoria del campionato e l'anno scorso ho una bella esperienza in Lega Pro. Mi sto trovando molto bene con i compagni, con lo staff e stiamo cercando di creare un gruppo solido il prima possibile per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, la squadra è forte, dobbiamo lavorare in silenzio, in questo momento la classifica non è delle migliori ma sono sicuro che riusciremo a risalire. È stata una settimana molto impegnativa, abbiamo lavorato tanto, con tanta rabbia e tanta voglia per i punti persi nell'ultima partita di campionato e abbiamo lavorato bene, siamo pronti per affrontare questa sfida. Mi aspetto una battaglia, il campo è sintetico abbastanza piccolo, abbiamo visto dalle immagini e dovremmo arrivare primi su tutti i contrasti, su tutti i palloni e dovremmo stare concentrati per tutti i 90 minuti.